Avete presente tutti i video che ho caricato da inizio anno qui su HD, come vari confronti, le recensioni come quella del Magic 6 Pro per Barcellona, quella stile vlog del OnePlus 12 ad Helsinki di qualche giorno fa. Bene, tutti questi contenuti li ho realizzati con lei, la nuova, tra virgolette, Lumix S5 Mark II. Perché dico nuova, tra virgolette? Perché beh, ormai lei è in commercio da un po', ma c'è una caratteristica che la rende, secondo me, sempre nuova, ovvero gli aggiornamenti, perché a distanza di tempo Panasonic non butta mille modelli sul mercato ma aggiorna quelli che già ci sono. E io la sto provando praticamente tra noi tre mesi come mia videocamera e fotocamera personale per decidere se fare l'upgrade dalla Olympus M1 Mark II che utilizzo tutt'oggi ancora per YouTube. Una micro 4 terzi, utilizzo il micro 4 terzi da 10 anni, mi ci trovo benissimo, è compattina, è leggerina, ha un'ottima qualità video, mi sta riprendendo proprio in questo momento e comunque ha un buono sfocato, ha un autofocus rapido, guardate qui, affidabile, ma volevo qualcosa in più, volevo provare questo fantastico full frame e quale occasione migliore di questa Lumix S5 Mark II. È vero, potevo tranquillamente continuare a usare le Sonic, per esempio siamo a Milano in studio. Sono eccezionale, abbiamo sia la variante S, sia le FX30, tutte fotocamere incredibili, autofocus eccezionale, ma non lo so, non mi hanno mai fatto appassionare troppo. Questo invece è uno strumento che mi ha fatto divertire in queste settimane, in questi mesi. E più che altro secondo me c'è anche qualche chicchettina. E poi il prezzo non costa poi tanto, non è un upgrade che mi costerà un occhio della testa. Eh già, perché comunque devo ancora acquistarla questa fotocamera, grazie a Panasonic, infatti, che me l'ha mandata in prova per capire un po' se facesse al mio caso. Dai, ve ne parlo brevemente perché è stata una bella esperienza. E partiamo dai fatti, poi magari parliamo delle cose un po' più noiose. Eh già, perché vorrei parlare subito di qualità fotografica. Io non l'ho presa per questo e più che altro l'ho utilizzata soltanto con la lente kit. Ve l'ho fatta vedere prima, eccola qui. Non è la miglior lente, anzi, comprare questa fotocamera per usare solo la lente kit è un paradosso, ma avendo già questa, che è la versione più economica, accessibile, beh, ho comunque potuto riscontrare un salto avanti rispetto al mio micro 4 terzi. Non così lampante lato foto, perché comunque ero abituato, per esempio, a un 45mm f1.2 d'altissimo livello, una lente pro che è costata mille più euro. Quindi una distanza tra una super lente e questa qui, leggermente più economica, si avverte. Anche se qui abbiamo un sensore più figo, una fotocamera più figa. Non ho avvertito un grandissimo passavanti lato foto, però comunque per le fotoprodotti che ci servono qui su un sito di tecnologia, va benissimo, va alla grande. Immaginate cosa possa fare con una lente, per esempio, macro, l'ultima che è uscita, 100mm, incredibile. Appena comprerò questa fotocamera, quello sarà probabilmente il primo acquisto, perché è una lente che bramo da quando è stata annunciata. Io però l'ho comprata per i video e ve ne starò facendo vedere un po', tanti spezzoni diversi, perché poi alla fine, come vi ho detto, potete andare a recuperare le tantissime recensioni, i confronti, i articoli, che trovate qui su HD, dove l'ho sfruttata proprio per i video. E cos'è che mi ha fatto impazzire? Di questi video. Allora, innanzitutto, la qualità è eccellente. Ho registrato quasi sempre in 4K o Cine 4K, 4, 2, 2, 10 bit. Registrato tutto, tra l'altro, su due SD che avevo da tantissimi anni, non sono le più veloci in commercio, eppure va ancora alla grande. Quando sono in studio, registro in manuale, ovviamente, per settare tutto a mano, mentre fuori, in esterna, spesso registro con la modalità apertura. La stabilizzazione mi ha soddisfatto, soprattutto nell'uso vlog. Basta fare un po' di accortezza e comunque sia una buona stabilizzazione, non alla pari della micro 4 terzi, ovviamente, ma comunque, ecco, una buona sorpresa. Mi aspettavo molto, molto, molto di peggio da questo punto di vista. Avendo provato le Sony, qui non mi sono trovato male, anche perché comunque lei è bella grossa, ma comunque si impugna bene. Ti dà una sensazione di solidità incredibile, ne parleremo dopo di ciò, quindi alla fine si stabilizza anche abbastanza bene a mano. Ma voglio porre l'attenzione sull'autofocus, perché, ragazzi, soprattutto se pescate l'ultimo video, quello vlog ad Helsinki, per il OnePlus 12, lì potete proprio vedere come l'autofocus è incredibile. Anche in uso vlog, che è una cosa essenziale per me. Seppur sia una fotocamera grande e ingombrante, per me è essenziale vloggarci anche con una fotocamera. E con lei posso farlo senza troppi problemi, ok? Pesa un chilo e cento con l'obiettivo montato su, ma non mi è impossibile poi vloggarci. È abbastanza comodo, lo schermino flippabile, è una bomba, funziona molto bene. Riesco a vedermi tranquillamente, riesco tra l'altro anche arrivare a tutti i vari parametri che sono a portata rapida, di questo ne parliamo dopo, quindi bene anche per questo. L'autofocus eccezionale. Anche nel nostro ambito, dove spesso dobbiamo mettere dei prodotti, tra la fotocamera e noi, lei riesce perfettamente a capire quando mettere a fuoco un prodotto e quando invece puoi passare su di me. Una cosa che l'Olympus faceva un po' peggio. Una cosa che mi ha fatto amare questa fotocamera, però, è che io ho avuto delle clip colorate benissimo. Tutti i video che vedete sono abbastanza colorati bene, standard, nulla di strepitoso, perché comunque spesso dobbiamo far vedere i display, avere una veridicità dei colori. Ma comunque posso avere una color correction direttamente in camera, registrando in vlog e applicando un loot. Quindi posso sia vedere l'anteprima dei loot, scaricandoli dentro la fotocamera, sia già applicarli. E questa è una cosa fighissima, strafighissima. E che mi leva tantissimo lavoro che devo fare io poi manualmente su Premiere. E che magari poi ti rende anche più lento il rendering, l'esportazione e via dicendo. Qui importo il mio loot, lo vedo, va bene, in formato cube, lo posso cambiare, posso levarlo, posso fare quello che mi pare, tutto direttamente in camera. Una figata. E senza rinunciare a qualcosa, come per esempio la qualità del file, che rimane altissima. Non ho sfruttato il 6K. C'è a disposizione, possiamo registrare. Quello che adesso mi interessa fare magari è proporvi qualche video in 6K, in futuro, e vedere magari se notate un po' la differenza. Ma io non credo. Una cosa essenziale per me però è avere una fotocamera che può registrare praticamente all'infinito, e lei può farlo, sia grazie alle non limitazioni, che sono state non messe per la punta all'interno di questa fotocamera, ma più che altro anche grazie alla ventola. Eh già ragazzi, perché qui dentro ci hanno messo addirittura una ventola. E questo cosa significa? Beh, che io posso registrare per tantissimo tempo senza che lei si scaldi mai. Questa fotocamera, o videocamera, perché possiamo ormai chiamarla anche così, scalda quasi nulla. Non la si avverte mai scaldare, e quindi può registrare senza limiti. E questa è una funzione che ti fa tutta la differenza del mondo. Chi ha avuto una Sony APS-C, ma anche qualche Sony full frame, sa che dopo un po' di tempo ti esce l'icona del termometro, e da lì hai minuti se non secondi contati per completare il tuo video. Ma anche con qualche Fuji mi è capitato. Non va bene, soprattutto per io che sono abituato a questa Olympus che mi registra per 140 minuti di fila senza mai scaldarsi. Era abituato bene, qui posso fare praticamente lo stesso anche se per meno tempo ovviamente. Più qualità significa anche più consumi, ma comunque in genere riesco a registrarci un video completo qui su YouTube. E mezzo. Difficilmente riesca a registrarci due video con una batteria, ma comunque già una e mezza è un risultato enorme, considerando che spesso sono chiuso in studio qui per due ore anche la registrazione di un video, ma ogni tanto può capitare anche qualcosa in più. Dipende ovviamente poi dalla complessità generale. Vi parlo allora a questo punto anche di qualità costruttiva, perché la ventola è integrata alla grande, neanche si nota che c'è una ventola qui dentro. Certo la fotocamera è un po' massiccia, è un po' grossa, ma questo secondo me è un punto a favore, perché io quando impugno questa Lumix ho una sensazione di solidità, rocciosità, ho la sensazione che anche se mi cade questa fotocamera non si rovina lei, ma si rovina il parquet per terra. È una cosa non da poco, perché comunque in un lavoro dove spesso lei è soltanto uno strumento, quindi viene un po' distrattata, beh io non devo pensare alla sua resistenza, perché è già super super costruita bene. Bene però la disposizione di tutte le varie ghere e pulsanti. Uno perché non è una macchina confusionaria. Io qui ho il display, i miei tasti fondamentali come quello menu, il display, il tasto per il menu rapido, ed ecco proprio il menu rapido, è una svolta, è fatto benissimo, è customizzabile, e io qui ho tutto ciò che mi serve. Per esempio devo fare dei reel, quindi mi servono dei file più leggeri, swap, da MOV passa mp4, ho fatto. Voglio levare il mio loot preapplicato? Beh scorro qui e passa tantissimi altri preset che ho a disposizione. Ho il controllo qui per l'autofocus, quindi se averlo singolo, continuo o se mettere magari in fuoco manuale. Per il resto sopravo due ghere, con una all'interno anche il tasto di scatto, tre punzantini per cose essenziali come il bilanciamento del bianco, gli ISO e l'esposizione, il tasto REC, bello grosso e rosso, un LED di stato e la ghiera per le modalità. Per me sarebbe stato top spostare questa ghiera qui a sinistra ed integrare un piccolo display, uno di quelli superiori, a me piace tanto, però capisco che è una scelta mia personale e avrebbe probabilmente aumentato anche i costi. Per il resto ho un tasto frontale, customizzabile, molto comodo e praticamente fine, non mi disperdo all'interno dei menu, c'è un touch che comunque funziona bene, un mirino di alta qualità, per quando mi serve, e un display che alla fine si orienta un po' in tutti i versi, è buono, seppur secondo me poteva essere migliore. Per il resto io ho nei menu, che comunque sono fatti bene, perché i menu sono fatti bene, c'entro una volta ogni 10.000 anni. Questa è una fotocamera che posso dare in mano a chiunque, non l'abbia mai utilizzata, e riesce ad avere un buon feeling dopo un paio di minuti, perché è semplice. Ultimo ma non ultimo, consideriamo anche il parco lenti, perché una cosa che mi piace è che tutte le lenti sono praticamente identiche, quelle Lumix, a livello di dimensioni, per esempio a livello di filtri, che poi ci monti su, la qualità è buona, i prezzi non sono esagerati, più che altro hai tutte le lenti Sigma, ce ne sono tantissime, hai anche quelle Laika, vabbè se vuoi fare un po' più l'alternativo, nessuno, credo, utilizzare le lenti Laika su questa fotocamera, però c'è anche quell'eventualità, ma comunque ecco, riesce a portarti a casa delle buone lenti, e una fotocamera a un prezzo accettabile, spesso ci hanno visto anche dei bundle con due lenti, il kit e una Prime, a 1500-1600 euro con i cashback, prezzi assurdi. Ultimo ma non ultimo, vorrei un attimo ritornare sull'autofocus, perché alcuni so che sono spaventati da questa feature, e quindi è essenziale darci un po' di tempo, perché funziona alla grande in 4K, in Full HD ovviamente torna quello standard, quindi non è affidabile, ma se avete l'intenzione di registrare in 4K, ciò che dovreste fare con questa fotocamera, non abbiate alcun problema, perché l'autofocus è incredibile, ma più che altro ecco, spesso mi accorgo che su YouTube ci sono delle prove di autofocus, non tanto veritiere, cose intanto veritiere di vita reale, per esempio questa Olympus online, trovate solo critiche, eppure guardate qui, è un autofocus super piacevole, tra l'altro anche un buon livellamento, non è subito netto lo stacco, quindi ecco, fidatevi, se la comprate, basta trarre un minimo 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 le impostazioni, mettere magari un po' più lento, veloce poi in base al vostro gusto personale, ma l'autofocus è tanta roba. Sono felice di aver provato questa fotocamera, assolutamente sì, e devo ringraziare Panasonic, che mi ha permesso di provarla, per questi tre mesi, prima di decidere se comprarlo o meno, e beh, credo proprio che lo farò. Mi ha soddisfatto, vi lascio poi ulteriori foto all'interno dell'articolo scritto, e non vi rubo molto altro tempo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa Lumix, spero che questo video sia stato d'aiuto, se magari state cercando una nuova fotocamera per YouTube, una videocamera, se volevate fare come me un upgrade, da una soluzione vecchia di un bel po' d'anni, semplicemente se eravate in dubbio, su quello che è questa fotocamerina, non poi scordandoci del fatto che viene aggiornata spesso, e quindi avrete magari dei nuovi formati video, delle nuove funzioni, cioè per esempio l'anamorfico, cose che io non utilizzo, e non vi ho raccontato all'interno di questo video, perché per l'appunto era una mia esperienza personale, però vi aspetto qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao ciao!